Per iniziare con il video ragazzi però vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link per andare sul sito di Eneba Mi raccomando usate il mio codice cecchinato per ulteriore sconto e come potete vedere ci sono tutti i cosmetici, i codici di Fortnite, i bundle, tutto a prezzo scontato Basta cercare Fortnite sul sito di Eneba e vi appare tutto Usate mi raccomando il mio codice sappiate solo che ovviamente una volta comprato l'oggetto vi verrà mandato il codice del vostro acquisto anche degli altri videogiochi tramite email Potrete ovviamente comprare con qualsiasi cosa quindi Paypal, carte di credito eccetera trovate tutti i link utili qua sotto in descrizione Ragazzi bentornati in questo video io sono cecchinato e oggi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News Oggi ragazzi un po' di leak molto interessanti infatti andremo a vedere innanzitutto news per la collaborazione con Dragon Ball Alcuni leak ovviamente usciti nelle ultime ore e poi cosa importante una copertura armi gratis per tutti Andremo a vedere come si potrà ottenere con chi è in collaborazione con questa copertura armi eccetera Per iniziare però solito like mi raccomando se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina e detto questo iniziamo subito E partiamo dal negoziocetti infatti oggi è arrivato il bundle dedicato alle skin come diciamo ricordo insomma del capitolo numero 1 di Fortnite Come possiamo vedere sono nello shop a 1200 bucks mentre il backpack purtroppo costa 400 bucks anche se potevano metterlo sinceramente insieme all'acquisto della skin Però l'hanno messo a parte quindi 400 bucks e ovviamente potete prenderlo già ora nello shop Credo che rimarrà per sicuramente altri giorni almeno una settimana quasi dovrebbe comunque essere il bundle presente nel negoziocetti Quindi fatemi sapere se lo prenderete se vi piace non vi piace fatemelo sapere qua sotto con un commento E passiamo poi a una curiosità che riguarda la musica italiana che sbarca su Fortnite Infatti per la prima volta in assoluto ovviamente per quello che riguarda l'Italia Un brano italiano è stato aggiunto alla radio di Fortnite Che se non sbaglio è la power qualcosa mi sembra che si chiami la stazione radio E oltre ovviamente a altri brani che già sono stati rilasciati ora potrete trovare la canzone Brividi Che per chi non lo sapesse è una canzone che aveva vinto il festival di Sanremo Quindi sarà adesso disponibile la potrete ascoltare proprio nella radio che si chiama Power Qualcosa Ovviamente non mi ricordo adesso proprio il nome preciso però so che inizia con Power Poi c'è un altro nome che non mi ricordo però basta che andate sull'auto e potrete adesso ascoltarli in quella stazione lì Poi passiamo invece alla collaborazione Dragon Ball Infatti come possiamo vedere ormai si sta parlando già tantissimo negli ultimi giorni questa collaborazione Che sappiamo che arriverà al 100% e guardate un po' secondo una fonte affidabile La collaborazione con Dragon Ball è prevista innanzitutto per la fine di agosto Quindi sappiamo che cambierà anche il bus della battaglia in realtà Quindi ci saranno molti molti importanti cambiamenti Molto probabilmente anche per quello che riguarda insomma il bus che cambierà Ci sarà probabilmente un evento dedicato magari come è stato con Naruto E poi insomma altre news che probabilmente verranno lasciate in futuro Ovviamente non può mancare anche il bundle nel negozio e getti Che come ben sappiamo si Goku è confermato praticamente al 100% che farà parte del bundle E poi ragazzi la news che è insomma uscita nelle ultime ore Si parla che probabilmente ci sarà anche Vegeta insieme a ovviamente Goku E in più oltre a questi due ragazzi ci dovrebbero essere altri due personaggi Dedicati insomma alla collaborazione con Dragon Ball Che arriveranno nello shop insieme a questi due che vi ho appena citato Quindi due li sappiamo altri due sono ancora misteriosi Quindi per un totale di quattro skin nello shop Più backpack ovviamente più picconi credo e più deltaplani Novità anche per quello che riguarda Donald Mustard Che infatti pubblica su Twitter una insomma immagine interessante Con un cielo insomma con un po' di nuvole Ma non è la foto che ci interessa Ma più che altro ci interessa quello che scrive Infatti come potete vedere nuovo stato Vibrazioni in italiano estive Quindi in poche parole sta già annunciando Che questo martedì ovviamente arriverà l'evento estivo al 100% Finalmente è stato rinviato almeno due volte in questa season Sì è vero c'è già stato qualche ricompensa nella creativa eccetera Come ben sappiamo però non era in realtà proprio l'evento estivo Deve ancora arrivare arriverà con questa patch 21.30 se non erro Non vorrei dire una cavolata ho perso il conto ma credo che sia 21.30 Ho 21.20 mi è arrivato un attimo un dubbio Credo ho 21.30 Che comunque questo aggiornamento sostanzialmente arriverà questo martedì Che porterà ragazzi l'evento estivo Regali ovviamente tramite le sfide che saranno stavolta in battaglia reale Skin estive nuovissime Probabilmente il negozio oggetti sarà molto più estivo Quindi ritorneranno molte più skin estive Che comunque ancora parecchie mancano al loro ritorno Quindi sicuramente arriveranno le vecchie skin E nuove location ragazzi che come ben sappiamo in questa zona qui del santuario Questa parte qui come possiamo vedere ci sono già dei gommoni, delle costruzioni Si parla anche di un concerto che potrebbe arrivare proprio in queste parti qua Ma ovviamente ancora da vedere Sempre se ci sarà questo concerto, questo evento Comunque probabilmente si verrà fatto in questa parte qui Vedremo comunque ragazzi Ditemi cosa ne pensate L'evento estivo inizierà quindi questo martedì E passiamo ragazzi adesso all'ultima novità per oggi Ma molto importante Si parla di un regalo gratis Che verrà presto annunciato Non abbiamo ancora una data di arrivo Non sappiamo ancora tra virgolette quando Quindi potrebbe arrivare questa ricompensa Ma sappiamo che a breve insomma In queste settimane, in questo mese comunque Verrà annunciata la collaborazione tra Fortnite E un'applicazione che praticamente registra lo schermo di Fortnite Crea praticamente delle clip Dove poi potete condividerle con i vostri amici E tramite questa applicazione ragazzi C'è una ricompensa gratis Ed eccola qua la ricompensa ragazzi È una copertura armi che comunque non è male Pur sempre gratis Quindi si accetta tutto E questa copertura armi non sappiamo ancora come si ottiene Nel senso sappiamo che sarà gratis tramite questa applicazione Di nome Post Party Che se volete già scaricarla Scaricatela si chiama Post Party Credo che sia già disponibile E vi consente comunque di registrare lo schermo Quindi io credo che basterà registrare l'account Collegarlo ad Epic Games E bene o male si dovrebbe fermare qui Diciamo la collaborazione Nel senso che una volta fatto questo Poi dovreste in teoria ottenere già la copertura armi Oppure vi chiederanno di registrare una clip Magari di condividerla eccetera Questa dovrebbe essere insomma la richiesta ecco per ottenere questa copertura armi Che sarà ottenibile quindi con questa applicazione Detto questo fatemi sapere se vi piace Cosa ne pensate Maggiori informazioni ovviamente Nei prossimi giorni O sul mio canale Telegram Mi raccomando che trovate in descrizione O magari ve lo metto nei commenti Quindi entrate anche nel mio canale Telegram per link In anteprima Detto questo però noi ci vediamo domani Ragazzi con nuovissime novità Bella Grazie a tutti